E ora un articolo dedicato ad Amanda Lear, che abbiamo il piacere di trovare in questo momento su Rai 1 dove è giudice dello spettacolo si può fare di Carlo Conti, e leggiamo direttamente dalla rivista di più, Amanda Lear foto in bianco e nero da giovane, è un periodo, che la vedo la vita in rosa, mi sento serena, tanto che nei miei quadri raffiguro fiori, primavere con esplosioni di colori accesi, sono ispirata dalla mia allegria, dalla felicità della mia vita, dipingo di getto, un tempo per realizzare un quadro ci mettevo mesi, ora è questione di giorni, e questo anche se sono sola, si è finita la storia con il ragazzo giovanissimo con cui stavo, ma va bene così, ed è davvero una Amanda Lear in grande forna, raggiante, con i suoi 63 anni portati con una leggiadria tale da essere ancora la musa ispiratrice e testimonial di stilisti come Ian Paul Gaoltier e Givenchi, quella che incontro, e che presenta a di più alcuni suoi capolavori e dice, si i miei quadri hanno ottime quotazioni piacciono e piace ancora di più questo mio periodo floreale, meno inquieto, che il mio amico Vittorio Sgarbi mi ha voluto per una mostra a Sfoleto in provincia di Perugia durante il prossimo Festival dei Due Mondi, si inaugurerà il 27 giugno a Palazzo Leti Sansi e li saranno esposti i miei quadri, sa sto ancora preparando il catalogo per me è una grandissima soddisfazione anche se a dire il vero mi distacco molto da quello che mi diceva Salvador Dali, certo io sono stata la sua musa per anni, ma lui è stato il mio maestro anche nella pittura, beh lui diceva che i fiori dipinti a macchie di colore, come faccio io ora, gli sembravano una tovaglia sporca li detestava, per me invece questi fiori sono una terapia il mio sfogo dipingerli mi rilassa. Amanda Lire la fine della storia d'amore con Antoni Ornez, si probabile, ma comunque quali pene d'amore, con Antoni Ornez è finita perché doveva finire, ma non per questione di età, io non avevo tempo da dedicargli e per una storia seria occorre tempo, poi, certo c'è la passione ci sono le storielline, ma l'amore vero va coltivato e io con Antoni Ornez ero troppo presa dai miei integni, siamo rimasti amici, ci sentiamo, ci vediamo quando ci va, sa come funzionano queste cose, ma assolutamente non ho tempo e voglia per storie invadenti. Amanda Lire è rimasta amica anche con Manuel Casella, guardi Manuel è una persona, che mi ha aiutato a superare i miei periodi più brutti della mia vita, quello dopo la scomparsa di mio marito Alain, avvenuta tragicamente durante l'incendio della nostra casa in Provenza, in Francia, quando mi ha conosciuto ero ridotta male, mi ha aiutato a risalire la china, è stato importante ma ora è un po', che non lo sento, sono felice, che sia diventato papà, cmq non è mai bello quando una storia finisce, ma alla mia età sai che nulla è eterno, mi viene da ridere quando sento parlare di legami per la vita, Amanda Lire ma lei è una donna, che ha amato molto, no si sbaglia io credo che nella vita di una persona ci sia posto anche per uno solo grande amore io l'ho avuto mio marito, certo ho avuto tanti fidanzati in Francia e in Italia, in Inghilterra, pensi collegandomi sempre alla mia pittura, un tempo dipingevo tantissimi nudi maschili, ora fiori ma i giovanotti mi piacciono ancora sia chiaro, e fortunatamente visto che lei sottolinea sempre la differenza di età con i miei partner ancora io piaccio a loro molti corteggiatori e la cosa mi lusinga, segno anche che mi tengo bene, guardi che vitino, che ho ancora, Amanda Lire è icona di trasgressione cosa ci si aspetta da lei, guardi io faccio difficilmente vita mondana, vado a letto al massimo alle 10 di sera e mi sveglio alle 7 e mezzo del mattino, e cerco il più possibile di fare sport, vado in piscina e ora mi sono messa un programmino sul cellulare, che conta i passi mi sono imposta di farne almeno 10.000 a giorno circa 7 chilometri, mi devo tenere in allenamento e non lo faccio solo per me stessa, lo faccio anche per i miei fans, per coloro che ogni sera pagano 50 euro per venirmi a vedere a teatro a Parigi, perché deluderli, perché fare dire loro guarda come sia pesantita Amanda, che fianconi, che ha messo sì il lavoro mi aiuta a rimanere giocane, ho iniziato a curarmi molto proprio da quando ho iniziato a portare in scena la divina commedia, una commedia, che è andata benissimo, adoro il teatro tanto, che sempre a Parigi per la prossima stagione, ora che sto preparando Irma la dolce.